Ha voluto salutare così la città di Teramo, con la dolcezza che la caratterizzava, con la sua positività, gentilezza, che la contraddistingueva, evidenziando cioè l'ottimo servizio riscontrato all'ospice di Teramo, divenuto la sua casa dopo la malattia. Quella malattia che le ha tolto la vita, ma che non ha mai scalfito il suo temperamento di donna forte, brillante e risoluta. Quando la malattia ti colpisce duramente, scriveva la maestra Anna, avvolgendo il tuo corpo e annebbiando la tua mente, comprendi perfettamente l'importanza di avere nella tua città una struttura sanitaria eccellente, che possa rispondere ai bisogni clinici, assistenziali e psicologici per te e per i tuoi familiari. La malattia, scriveva ancora la maestra Anna, trasmette senso di impotenza, frustrazione, paura e rabbia. In alcuni casi invece subentrano sofferenza e dolore, che non ti consentono di rimanere nel tuo ambiente, ed è allora scopri qualcosa che non ti aspetti proprio nella tua città, Teramo. Entro all'ospice dell'ospedale di Teramo e sembra subito di trovarmi a casa. Anna era così, amava la sua Teramo, il suo quartiere, la gammarana. Come dimenticare l'iniziativa organizzata con il suo compagno di vita, Giovannino Pettinaro, coinvolgendo il nido di cui era coordinatrice, Pinocchio. Pitturiamo i muri tetri del quartiere, rendiamoli colorati, rendiamo nostro il quartiere, era il suo grido di battaglia. Mamma per i bambini, che accoglieva ogni giorno nel suo nido, artefice di innumerevoli iniziative che coinvolgessero dapprima le maestre e poi i genitori, nonni, come la gita al mare a Pineto in treno. E' venuta a mancare nella notte Anna Ferrante, lasciando i suoi due figli, Mauro e Silvia. E' raggiunto in cielo il tanto amato compagno di vita, così piacevano definirsi l'un l'altro, Giovannino Pettinaro, che probabilmente, straziato nel vedere la sua Anna consumarsi nella malattia, non ha retto e qualche mese fa ha preferito salire in paradiso a preparare un angolo di cielo, tutto per lei, con l'aiuto degli angeli. Questo ci piace pensare a quell'abbraccio che l'ha riunita al suo Giovannino.